La valle di questa seconda, vi rammento che c'è stata una partenza richiamata, sono di scena i quattro anni, doppio chilometro, in quindici l'uno non partente, Tamisia, Ciccarelli, Insalchi, la più già attenata è una nava al Shiba, 5-7 legati da rapporto di scuderia, mezzo meccanico in movimento. Si va a completare l'allineamento e inizia a prendere velocità la macchina. Tutto sommato più che buono il lancio. Galoppa il 6, top manager par, Ed Trac tenta di rientrare, si lotta, quattro cavalli sulla stessa linea, sta emergendo però a largo il numero 4 di Trofalzac e Trofalzac punta in avanti. E così, Trac trofalzac che ora potrebbe ripiegare, la cosa avviene. Poi c'è il buon curato con Tita Brook. 15-1 il lancio. E di fronte, quindi, Trac viene via il 5 di Tago del Ronco, pedinato dal 12, Tarabusino jet, partito bene. 32-400, si presenta a chiedere strada, il numero 5 Tago del Ronco impegna il leader e sta passando gradatamente, ora rimane scoperto all'allievo della Villani. 600 iniziali, in 46 un battito. E il jet di Elena Villani si presenta sul nuovo leader, cioè Tago del Ronco. Si è formata una seconda fila a largo, si completa la piegata, anche il mezzo miglio iniziale. Mezzo miglio nell'ordine dell'1-2,5, a largo quindi di Tarabusino, pedinato dal 16, Terrible Blessed con il buon francese. Viene via anche il 10 di Trottolina o il Fass per non rimanere chiuso. Si va al primo chilometro, sul mio in 17,7, e cavalli che affrontano la penultima curva, Tarabusino, sempre alla prese con Tago del Ronco. Cavalli a metà della piegata, il 10 a tabellone, anche Trottolina galoppo. Viene via Totò e Totò trova traffico ma punta in avanti con il buon D'Alessandro. Totò si migliora gradatamente, Tago del Ronco al comando, Totò è incisivo. Viene via la grande Tuono Capar con il buon Borrino. E' un po' fermo il leader, passa senza colpo ferire Totò. Vuole imitare il mitico nostro grande Totò. Ma allargo Tuono Capar. Ma si riprende il leader e torna in parità con i primi due. 2,5 il miglio. E' bravo Orlando, sembrava finito. Ora trova il barco, anche Trofalzac, numero 4. Viene via anche Twitter Rodi. Si lotta per il comando con il leader che ha ancora qualche energia. Ma viene via la grande, allargo e cerca di agganciare il numero 11 di Twitter Rodi. Twitter Rodi allargo ma allunga Crescenza Orlando. Il buon Carlo Orlando arriva a bomba, Trofalzac. E' sul palo, Trofalzac. A Pariglia, Tago del Runco. Io ho 2,37 sul mio cronometro. Proprio sul palo. Proprio sul palo. L'ottimo Marzio, l'ischitano Marzio, con questo targato Zac. Vedete, meritava il primo piano. Sembrava l'ultima curva che non aveva più carburante. Bravo Orlando a riprenderlo. Ma sul palo, probabilmente stampato dall'avversario. 4,511, il probabile arrivo. Andiamo a leggere un pochettino la quota. 22,94. Niente male per questo allievo di Marzio. Comunque, dati minimi di stacchi. Conservate sempre i biglietti. L'arrivo lo fa la giuria, non lo zio salvio. Linea lo studio. Niente male per questo allievo, anche se ci si vediamo dal video. Grazie.